e Mattia Dalfarra già oro in questa manifestazione l'atleta del team Veneto accreditato col miglior tempo di iscrizione ventisei e dieci leggerissimo il margine di vantaggio su Aguiari al passaggio dei venticinque metri primato del meeting che riguarda tutta la categoria ragazzi di Donin ventitré settantasei davanti a tutti Mattia Dalfarra venticinque settantotto per la vittoria su Enrico Aguiari ventisei e trentanove e Eros Comin che dalla serie due arriva al tempo